Vangelo del giorno 17 dicembre 2021 Dal Vangelo secondo Matteo Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli Giuda generò Fares e Zara da Tamar Fares generò Esrom Esrom generò Aram Aram generò Aminadab Aminadab generò Nahason Nahason generò Salmon Salmon generò Boaz da Raccab Boaz generò Obed da Rut Obed generò Iesse Iesse generò il re Davide Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria Salomone generò Roboamo Roboamo generò Abia Abia generò Asaf Asaf generò Josafat Josafat generò Ioram Ionar generò Otsia Otsia generò Ioatam Ioatam generò Akats Akats generò Ezechia Ezechia generò Manasse Manasse generò Amos Amos generò Josia Josia generò Ieconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia Dopo la deportazione in Babilonia Ieconia generò Salatiel Salatiel generò Zorobabele Zorobabele generò Abiud Abiud generò Eliakim Eliakim generò Azor Azor generò Sadok Sadok generò Akim Akim generò Eliud Eliud generò Eleazar Eleazar generò Mattan Mattan generò Giacobbe Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici Da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici Dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici Qualcuno potrà pensare Ma perché oggi tutti questi nomi? Questa genealogia così lunga Ebbene, questa genealogia così lunga, anche tanto difficile da pronunciare e da leggere per noi sacerdoti Ci dice le origini di Gesù Quindi non solo il nome, la missione e l'origine Questo perché? Perché Matteo ci tiene a precisare prima di parlare di Gesù fin da subito Che Gesù è Messia, è l'unto, è il Cristo Quindi se Gesù è il Cristo di Dio, il Messia di Dio Allora non solo le attese del popolo di Dio sono vere, valide e si realizzano in Cristo Ma anche noi che veniamo dopo, 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 dopo tanto tempo Abbiamo detto sì al Messia di Dio All'unto, al Cristo, al Signore Il Signore è il Dio della mia vita E allora fratelli e sorelle care Noi abbiamo detto sì a Gesù? Non temiamo Camminiamo con il Signore Viviamo con Lui Lasciamoci guidare E lasciamo che la Sua parola, il Suo Vangelo, i Suoi insegnamenti, i Suoi comandi Siano questa direzione per la nostra vita, per il nostro cammino verso il Paradiso